Un ricordo per i tanti morti di Covid, un anno in emergenza, ormai non si può forse nemmeno più parlare di emergenza. Purtroppo non è solo il ricordo, è l'attualità, stiamo in piena terza ondata con centinaia di morti al giorno, quindi è ancora lunga la battaglia per uscire dalla pandemia, però oggi era doveroso che i sindaci d'Italia si unissero simbolicamente, stando sotto i propri municipi per ricordare le tante vittime, oltre 100 mila morti, quindi una tragedia terribile, bisogna continuare a lottare e avere quell'ottimismo necessario per vedere la luce fuori dal tunnel. La vaccinazione, la campagna vaccinale è un elemento portante per l'uscita dalla pandemia, una considerazione su questo anche in vista degli ultimi eventi. Speriamo che oggi arrivi qualche parola di chiarezza, che diradi un po' la confusione, la mancanza di trasparenza e anche di parole chiare da parte del governo. Mi auguro che dopo che gli organismi scientifici dicano qualcosa di chiaro, sia il Presidente del Consiglio a parlare agli italiani, perché da un punto di vista politico l'Europa sta perdendo già rispetto all'Inghilterra, alla Russia, a Israele, agli Stati Uniti, alla Cina, siamo indietro, bisogna spiegare perché stiamo indietro, perché essere indietro significa avere più morti, essere indietro significa avere una pandemia sociale ed economica e del lavoro che non si riesce ad affrontare. È complicato poi accettare in un momento in cui lo stress psicologico di una nazione intera è forte, che il giorno prima si dica agli italiani dall'alto, delle istituzioni, non vi preoccupate, AstraZeneca è sicura, non ci sono ragioni perché venga sequestrata e la mattina dopo vengono sequestrate tutte le somministrazioni in tutta Italia, quindi ci rendiamo conto che è un momento difficile, ma proprio perché è difficile ci vuole credibilità, trasparenza e chiarezza. Io mi auguro che oggi questa possa avvenire e mi auguro che possa riprendere velocemente la campagna vaccinale, perché senza i vaccini si allontana di gran lunga l'uscita dal tunnel.